Anticipazioni uomini e donne, le candidate al trono rosa. I gossip tornano ad alimentare ipotesi sul nuovo trono rosa visto che quello di Sonia Lorenzini si è concluso. In molti si chiedono se ci sarà una sostituta e i fan cominciano a fare le prime ipotesi. Alcuni vorrebbero rivedere Martina Lucena negli studi Elios e la reclamano a gran voce alla redazione, altri invece ipotizzano un possibile ritorno di Valentina Rapisarda. C'è addirittura chi parla della biondissima Mercedes Zenger per il nuovo ruolo e con le ultime indiscrezioni. La prima. Martina Lucena sul trono. Ora che Sonia Lorenzini ha concluso il suo trono molti fan si aspettano che la sua erede sia proprio l'amica Martina Lucena. Infatti la ragazza sembra essere ancora single e i fan non hanno dimenticato la sua importante presenza negli studi Elios. Tantissimi infatti le chiedono di tornare nella trasmissione e la ragazza avrebbe lanciato un piccolo indizio che ha fatto subito sussultare di Gioia ai fan. Sul suo profilo Instagram è stata pubblicata una foto che la ritrae su di un trono rosso. Potrebbe trattarsi semplicemente di uno scherzo, ma nulla esclude la possibilità di un suo arrivo a brevi nel talk show. La seconda. Valentina Rapisarda torna dal passato. Valentina Rapisarda pare aver chiuso definitivamente la sua relazione con Andrea Cerioli. Sono molti i followers che ammirano sui social la sua giunonica bellezza e che si chiedono se l'ex corteggiatrice di uomini e donne riuscirà a ritrovare l'amore accanto a qualche nuovo bel fusto. Maria De Filippi potrebbe dare alla ragazza una nuova opportunità per trovare l'amore all'interno del programma. Ma a questo punto Andrea Cerioli potrebbe tornare sui suoi passi. I due infatti hanno avuto una storia molto intensa ed una convivenza importante, resta quindi da chiedersi se la ragazza possa essere pronta per un nuovo amore. La terza. In arrivo Mercedes Sanger negli studi Elios. La figlia di Riccardo Schicchi e Eva Enger, Mercedes Sanger, ha da pochi mesi concluso la sua relazione con Sergio Arcuri. La ragazza non è certo nuova al mondo della televisione, dal momento che molti l'hanno conosciuta proprio grazie all'Isola dei Famosi, in cui ha mostrato tutta la sua bellezza. Ora la bionda e vulcanica ragazza è tornata singola e, per il momento, non sembrano esserci in vista legami sentimentali. La ragazza ultimamente ha fatto molto chiacchierare le riviste di gossip al punto che alcuni si chiedono se proprio lei possa essere chiamata alla corte di Maria De Filippi, in tal caso si passerà da una bellissima tronista mora ad una bionda. Non perderti tutte le news di gossip degli studi Elios, segui sempre le nostre news di uomini e donne.